Ehi la ciurma! Io sono Alzatess e ben ritrovati in questo video di Expeditions Conquistador Devo dire che questo gioco mi ha davvero preso un sacco quindi farei partire una serie su questo Effettivamente questo sarà il video numero 2 e speriamo vada bene, spero che possiate apprezzarlo Vi raccomando lasciate un secondo di mi piace se vi piace questo video, supportate questo gioco Perché a me piace un sacco e se vi piace fatemi sentire quanto vi piace Detto questo lanciamoci nell'avventura, allora la scorsa volta dovevamo andare ad affrontare dei selvaggi Che erano rintanati tipo in una grotta o una roba del genere Dove gli altri però non osavano andare, adesso ci sono tanti posti in cui possiamo interagire Forse la usciamo e andiamo verso la grotta, allora io andrei un attimo a vedere le altre zone Che cosa c'è insomma Allora questa è la casa della migliore guerritrice di Santo Domingo, Maria Tojero Tojero credo che sia Ella può aiutarti a curare velocemente i tuoi seguaci, basta portarle alle giuste medicine Ok, adesso non mi serve, quindi qua è per curare Qua suppongo per acquistare o scambiare delle merci, commercio A sinistra mercante, a destra quelli che abbiamo noi, ok Se il mercante ha poca offerta, gli assegnerò un prezzo più alto Se ha molta offerta, ok E di vendere con poca offerta Tutti i mercanti ripongono ogni sette giorni, ok Vediamo un attimo che risorse commerciali abbiamo Allora noi abbiamo dei tesori Che costano un sacco da loro E Ah questa è una richiesta bassa Ah no perché ne hanno tanti, ok Questa risorsa ha una richiesta normale Questa risorsa ha una richiesta bassa Ha una richiesta normale, ok Ma che tocca all'inizio? Adesso non ci serva niente Termine evento, ok Allora invece se andiamo qua Stai passando accanto a un'ampia dimora Nella parte sentitoriale della città Quando un uomo esce dalla porta principale Cammina verso il città Passo spedito con un braccio alzato Scusatemi, un istante, per favore Ehm Allora rimango in silenzio Siete il nuovo capitano Giunto qui sulla Maria Teresa, vero? Ho visto i vostri soldati Sembrano molto ben addestrati Io Mi chiedevo se non vorreste consentirmi Di assoldare alcuni dei vostri uomini Per svolgere un incarico per me Intendo ripagarvi per il tempo Che mi dedicheranno Nei limiti del ragionevole Non ci siamo presentati, credo Oh no, me ne sono proprio dimenticato Perdonatemi Il mio nome è Marine Coccero Sono il tesoriere dei governatori di Santo Domingo Julius Mazzetes dunque Di che cosa si tratta? Mia moglie è un soldato al servizio di Noriega E' stata inviata a pattugliare le montagne Mia moglie Ok, antistorico del tutto Ma quindi, stavo di poterlo mantenere storico Mia moglie è un soldato al servizio di Noriega E' stata inviata a pattugliare le montagne a nord-est da qui Ma il suo distaccamento non è ancora tornato Sono in ritardo di settimane E sono oltremodo preoccupato Ehm Come possiamo esservi d'aiuto, signor Coccero? Se solo poteste mandare alcuni dei vostri uomini a cercarla Come ho detto, vi ripagherò per il tempo e largitomi Io devo sapere Devo fare in modo che torni da me se è ancora viva E se non lo è Ehm Porterò i miei soldati sulle montagne A cercare volo la vostra moglie Grazie Capitan Mezzetessi Il suo nome è Luisa Coccero E' un sergente dell'esercito Ho 31 anni Ricci lunghi ricci neri E porta un medaglione che racchiude il mio ritratto Vi prego Vi pagherò tutto Ma io non so qual è il ritratto di super Ah, forse questo Boh Ehm Tutto quello che volete Se solo riuscirete a scoprire che ne è stato di lei Ringrazio ancora diverse volte Quindi ringrazio uno I soldati che sono con te Prima di tirarsi nuovamente in casa Ok Va bene Abbiamo una mini quest secondaria qua da fare Allora Qua che cosa c'è invece? Una chiesa Cattedrale Santa Maria La menor La cattedrale venite ancora in costruzione Evidentemente Manche no? Ehm Ma viene già utilizzata per la messa settimanale Per le preghiere quotidiane dei coloni Ehm Assistiamo a un'omelia Allora L'omelia di oggi pronunciata da un frate francescano di nome Caro Proveniente dal monastero della città Del suo contenuto è molto diverso dei temi stagionali Qui era abituato in Spagna Perché si tinge dai problemi legati all'estediamento del nuovo mondo Ok Dopo la messa frate caro in piedi accanto alla porta Ringrazio tutti per la partecipazione Mentre non escono È un uomo di circa 65 anni Slanciato con una lunga barba bianca Occhi gentili Quando gli esteri giamano Ti lancia uno sguardo E ti prende da parte Vostra signoria Potete concedermi un istante per favore Il capitano Noriega mi ha casualmente accennato di voi Dicendo che in un prossimo futuro Avete intenzione di dirigervi con la vostra compagnia nord Verso Santiago dello Scaballeros Confermate? Potrebbe essere Molto bene C'è modo di convircivi a portare un piccolo carico di bibbia La brava gente di Santiago? Le bibbie sono davvero l'equipaggiamento Di cui la gente di Santiago ha più bisogno? Carovani che portano merci più importanti Viaggiano regolamente da Santo Domingo a Santiago Ma questo è un carico speciale La parola di Dio purtroppo non è riprodotta In grandi quantità A differenza del cibo e delle armi Se questo carico dovesse perdersi Sarebbe una specie di tragedia Non so quanto ci metterò per andare a Santiago dello Scaballeros Però Vediamo Molto bene Portate al carico i miei carri fratello Controllerò che arrivi laggiù integro Grazie capitano Dio vi protegga Ok va bene Mi sa che adesso abbiamo solo da andarcene Perché Sì qua non c'è altro da fare Là c'era altro da fare qua Ma forse sì Ah non desidera essere disturbato Ok allora Ci resta solo da uscire Mentre stai andando via da Santiago Sì da Santiago Dobbiamo andare a Santiago Mentre stai andando via da Santo Domingo Vieni fermato da un soldato di Noriega Se avete un attimo di tempo Avanzatesti il capitano Noriega Vorrebbe dirvi una cosa Prima che partiate Arriverà da un momento all'altro Aspettiamo Ma prima non aveva tempo Adesso Vi ringrazio di avermi aspettato Non so cosa De Manzanedo Vi abbia detto sul mio conto Ah De Manzanedo Forse non sono più nel fiori degli anni Ma non sono uno sproveduto Sono stato a lungo in queste giungle E volevo solo assicurarmi Che voi sapeste cosa andate incontro Accetterò volentieri qualunque consiglio Vogliate darmi Quest'isola è piena di pericoli Un villaggio di pescatori Taino sulla costa settentrionale Un altro villaggio nella giungla ad est E un terzo villaggio sulla penisola orientale I Taino sono per lo più amichevoli Ma alcuni gruppi di nativi farebbero di tutto Per cacciarci dall'isola Vi ringrazio capitano Sembrate una persona di sani principi Per quel che vale la mia opinione Ritengo che il governatore abbia sbagliato A confiscare la vostra nave Vi auguro buona fortuna durante i vostri viaggi Dio vi accompagna Dio vi accompagna Ok Quindi mi sa che stiamo uscendo Per la prima volta Dalla città Vediamo dove andare Cosa c'è qua Abbandono della città Stai lasciando la zona di movimento libero Attorno alla città di Santo Domingo Quando non ti trovi in una di queste zone Hai un numero di movimenti al giorno limitato Prima di doverti accampare per la notte Quando avrai esaurito i movimenti del giorno Prima il pulsante accampa Nell'angolo inferiore destro Ok O usa il tasto chiave C C Pradefinito Ok Cosa c'è qua? Sì ma cos'era quello a fare? Un po' Allora vediamo un po' Qua c'è una roba blu che non so che cosa sia E così non c'ho questi alberi che mi offuscano tutta la vista Allora Ha detto a nord est che era Abbiamo una mappa Ok Santiago dello scavallero sei di là Qua c'è anche la missione Credo che sia Questa rovine del tempio Dove dobbiamo andare Quindi mi sa che andrò in la Luogo di interesse Che non so che sia Però forse la nostra barca Non lo so Al Santiago dello scavallero Se dobbiamo andare Per questa via credo Nespa? No per quella Su qua Per quella là Vediamo quante mosse ho ancora a disposizione Ah là c'è un cinghiale Potrei provare a inseguirlo per fare un po' di caccia E poi accamparmi fuori Riusciamo a prenderlo? Yes l'abbiamo preso 16 provviste Adesso direi che ci conviene accamparci qua Allora Ok dobbiamo segnare gli incarichi Alle persone Distribuire le loro azioni E trattare i membri feriti Ok me ne abbiamo feriti Ogni volta che camperai Potrai assegnare i carichi I tuoi seguaci Selezionando i seguaci Facendo clic su un incarico a destra L'incorso per il compito assegnato Apparirà a destra del seguace Ok Guardia Difende l'accampamento Pattuglia Pattuglia alla periferia In cerca di punti di impeteresse Caccia Procaccia Viveri Per nutrire la spedizione Le possibilità di successione Ogni attività Ottimo Ah là ok Ed il baristeria Le piante che vengono raccolte Possono essere trasformate In medicina Conserva La carne non trattata Andrà male durante la notte Se non la conservi E se non la consumi immediatamente Ok Visto che abbiamo preso la carne Credo che qualcuno A conservarla Ci serva Nell'angolo in basso a destra Puoi vedere Quanta carne E quante erbe Lavorerai durante la sera Ok Alcune aree sono meno consigliate Per accampare Rispetto ad altre Perciò considero Lo stato del terreno Prima di allestire il tuo campo Stai allerta Sugli eventi contestuali Sugli eventi contestuali Segnare ad essi Dei membri Potrebbe essere un vantaggio Per la tua spedizione Ah vai a pescare Ottimo Autosegna Conferisce Ok Va bene Allora abbiamo Lui non può Lui lo può fare Conserva o caccia Lui è il medico Lo metterei a conservare E 2 su 16 le trasformo Allora noi siamo in 10 Quindi credo che Ce ne servirà Ne consumano 10 Una testa Detto no Allora Conserva i razioni Ok Io darei una razione a tutti No Un'unità di carne A testa darei Allora Lui è un'unità di carne Poi Allora Lui è un'unità di carne Anche visto che Ne abbiamo presa Da quel cinghiale Allora Lui conserva la carne Metterei anche lui A conservare la carne Quindi 4 su 14 Sono a posto Lui è un'unità Di carne E Cosa gli facciamo fare Ah allora Lui può guardare Io lo metterei a cacciare Quasi quasi 36 36 Patuglia 16 16 36 Non è male Visto che appunto Lui è un È un cacciatore Ci sta Lui è un cacciatore Di nuovo Lo metterei anche lui A cacciare Allora Abbiamo dato la razione All'altro Sì Questo è un dotto Gli darei un'unità di carne Sempre Così siamo A 11 12 Che Lo Può cacciare O conservare Lo mettiamo a conservare Anche lui Poi Lui è un esploratore Quindi direi che Possiamo fargli pattugliare Vedere se c'è qualcosa di interesse In giro E gli diamo Un'unità di carne Poi Un'unità di carne Gli incarichi Facciamo che lo mandiamo A Lui è un soldato Farei la guardia Ci va Ci vogliono un po' di soldati A fare la guardia Gli abbiamo dato la razione Da mangiare Sì Ok Ah se gli dà la razione Forse si vede L'affare Ah c'è il segnalino là Un'unità di carne Segnata Sì ok Lo indica là E poi In carichi Lui è un soldato Lo mettiamo a A guardare Ok A cacciare i soldati Come vanno 57 Non è male I soldati A cacciare Però metterei Un po' di gente A difesa Perché non so tanto Quanta Necessità di difenderci Abbiamo Allora qua 1, 2, 3 A difendere Lei la metterei Sempre di guardia E le do Una unità di carne E qua Do Una razione Così conserviamo Tutte le altre 6 E mettiamo Papapero Juan Ortega Proviamo a Mandarlo a cacciare A guardia 72 Juan Ortega Allora scusate Chi è che aveva Meno C'era un soldato Che non era Tanto forte Di guardia No Sono tutti bravi A guardia Ma andiamone Uno a cacciare Però Così magari Ci trovano Un po' di carne E proviamo A vedere un po' Allora Dovremmo aver dato Da mangiare A tutti E aver assegnato Allora Tutti hanno qualcosa Da fare Questo cos'è Esplora Vero Mangiano 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 Ok Ci siamo Allora Campo Uh Han trovato Un peccari Alejandro Pinta Dovente La tua tenda Con un ghigno Trasportando Maldestramente L'ingombrante Animale Vi hanno trovato Questo bestiello Di un maiale Vicino Uno stagno Dovete Decidere Voi Cosa Farne E Facciamo Le razioni Si Per ora Direi Che il morale Non ne hanno Bisogno Particolarmente Credo che questo Aumenti il morale E questo Invece Per migliorare Le relazioni Con un personaggio Facciamo che Lo mettiamo Da parte Ok Più 30 Crebio Ottimo Ottimo Ok Allora Adesso vediamo Dovremmo proseguire Verso L'altra zona Non è successo Niente Al nostro Campamento Quindi Credo che Abbiano difeso Bene I nostri soldati Allora Andiamo in là Consuma un po' Di movimenti Vediamo se c'è qualcosa Non riesco a Ah si ruota così Ok Ecco Allora Vediamo Non c'è un Kaiser Vediamo La mappa La mappa ci dice Quanto siamo Lontani Eh Siamo ancora Un po' Lontani Un paio di giornate Di Allora no Facciamo Così Perché Conviene sempre Non accamparsi Lungo la strada Cosa c'è là? Sembra qualcosa Cosa di Interessante Non lo vedo più C'è un cinghielo Ma non lo prenderemo mai Entro la notte A parte che di risorse Ne abbiamo anche abbastanza Dove Vedo il mio inventario Qua cos'è? Questo credo sia Inventario Ok Abbiamo 105 razioni È ottimo È ottimo Potremmo magari Cercare delle medicine Delle erbe stanotte Se possibile Abbiamo 8 di carne Perché abbiamo 8 di carne? L'abbiamo conservata Tutta quella che avanzava Vabbè Comunque Andiamo In qua Ok E ci Direi di accamparci qua Aspetta Magari Ok Fine del movimento Quindi ci accampiamo qua E allora Direi Allora Ah C'è già un'autoassegnazione Delle razioni Allora Una carne Una razione Ok Carne Dovremmo finirla tutta E andare con un po' di razioni Due con le razioni Se non sbaglio Uno Due Sì ok Gli altri con la carne Tre Con le razioni Ah perché abbiamo preso la ragazza Quindi siamo uno in più Siamo in 11 Giorni trascorsi uno Allora Lui può O non fare un Kaiser O cacciare Ma andiamolo a cacciare Sembra che non fare niente Allora Lui può Solo cacciare E mandiamolo a cacciare Allora Lui può Cacciare E proviamo a cacciare di nuovo Perché Erboristina non può Ah perché non abbiamo erbe Non si trovano qua le erbe Con queste azioni Bisognerà fare forse qualcosa di diverso Tipo forse pattuglia Non lo so Vai a cacciare anche tu Visto che non c'è niente a fare Pattuglia Lui cosa fa Pattuglia anche Ma andiamo Altra gente in pattuglia Ah Ah Quasi sono le probabilità In base alla gente Che abbiamo segnato Quante probabilità Abbiamo di Riuscire Guardi 72 È buono Caccia 64 Ora metterei Qualche di un altro A fare Ecco Lui possiamo Mettere di pattuglia E lui possiamo Mettere di pattuglia Così Ah Non è aumentato tantissimo La pattuglia 57 La caccia Ci è diminuita nettamente Allora mettiamo Che caccia E caccia E pattuglia È un po' difficile Che trovino qualcosa di interessante Allora Guardia però Dovremmo essere Abbastanza tranquilli Bah Proviamo Vediamo un attimo Eeeh Sì Entusiasta Il morale Di tutti è buono Sembra Sì Ottimo Controlliamo ogni tanto Il morale Perché È necessario Sapere Quanto Quanto sono messi bene E andiamo a dormire Allora La tua spedizione Consuma tre razioni No aspetta un attimo Eeeh Ok Le difese del tuo Campamento Resistono La tua pattuglia Torna a mani nuove Mani vuote Le battute di caccia Torna a mani vuote No quasi a mani vuote Cinque unità di carne Però Che non è male Allora Ora di quel maialino là Me ne fregherei anche abbastanza Andrei più che altro Avanti Per cercare di arrivare Andare a esplorare Ma prima andiamo a Santiago Per consegnare queste bibbie Già che ci siamo E l'altro dove aveva detto Che si era persa la moglie Allora andiamo un attimo qua Potremmo andare un pochettino più avanti No col Kaiser Cosa c'è qua Delle lucciole Siamo poco lontani dalla Santiago Mi sa che dobbiamo accamparci di nuovo E mi sa che non abbiamo Tanti momenti per farlo Uh là c'è un'altra cassa Ci sono due casse Siamo quasi a Santiago Lo vedo C'è il margine della città Di movimento libero Però Dobbiamo accamparci Perché ci è rimasto solo un movimento Quante relazioni abbiamo? 102 È ottimo Allora Io sto giro metterei Allora Mangiano carne E Risorse Va bene Visto che abbiamo un po' di carne È ottimo Farei di nuovo così? Pattuglia Caccia Guardia E Mi sa che Ma dei cacciatori Posso metterli a pattuglia E facciamo anche pattugliare Con questi Perché voglio vedere Se riesco a trovare qualcosa di interessante Che forse è meglio Perché Risorse di caccia Ne abbiamo abbastanza Gli altri però Possono solo cacciare Allora provo a mandarle a caccia Secondo me non trovano un Kaiser Però Facciamo loro fare comunque qualcosa Pattuglia Pattuglia La guardia 72 Dovrebbe andare Facciamo così Allora 6 relazioni 5 unità di carne Ehm Le tue guardie Non sono riuscite a raggiungere I ladri Che hanno rubato parte Dell'equipaggiamento Ma nooo La pattuglia Tornano a mani vuote E la caccia Solo tra unità di carne Ma vaffanbrodo Ci hanno fregato Ci hanno derubato Cosa ci hanno derubato Quindi L'attrezzatura Giustina seguaci Ah promuovere Ed equipaggiare Questo devo vedere Ok Una promozione Migliore Seguaci nei seguenti modi Aumentare l'efficacia In combattimento Acquisiscono un'abilità Di classe attiva Un'abilità passiva A tua scelta E 3 punti Per incrementare Le proprie abilità Di accampata Ok Abilità di accampata Ok Equipaggiamento Per potenziare Le qualità di armi E armature Ma nooo Che li promuoverai I tuoi seguaci Miglioreranno nell'uso Clicca sullo slot vuoto E equipaggiamento Nel gruppo Ok Ehm Ehm Nel più armi Puoi alternare 3DS Con i pulsanti In forma di freccia Ok Quindi vuol dire Che questi possono Già salire di livello Oh si Beh ottimo Ma tutti Meglio così Allora Allora A costo di produzione 100 punti di esperienza E Dove li vedo Questi punti di esperienza Che ha lui Ma ce ne ho 110 In totale O ne ho 110 Per ognuno Ehm Ehm Entusiasta Pappapero Dottore Non aumenterei Non aumenterei però Il dottore Aumenterei Ehm Aumenterei i soldati Aumenterei Isabella Dai Aumentiamo un po' La guardia Così magari è più brava A farci la guardia Allora Promozione Promozione Ho ottenuto Stordisci L'oviettivo nemico Rimarrà stordito E perderà il suo turno Successivo Oltre la possibilità Di realizzare Attacchi di opportunità Ottimo Ehm Posso scegliere Una tra queste tre abilità Adrenalina dipendente Il seguace acquisisce 10 punti di attacco Quando la resistenza È meno del 20% Ok Oppure posso dare Alabarda Consente di usare Un'arma in asta Danno alto Danno critico Basso Ehm Oppure Archibugio Consente Ma che armi ha Scusa un attimo Adesso Ah A sciabola E arco corto Sciabola E coltello Ah E posso scegliere Qua dell'equipaggiamento Per migliorarli Credo Ah ok No Toglilo Ok Ah Ok Beh Un archibugio Non sarebbe male Farei così Le do un archibugio Ottimo Ah si Era tra tutto il gruppo Centro di esperienza Ok E aumenterei la guardia Quasi quasi Così Siamo più tranquilli Ottimo E attrezzatura Vabbè Per ora la tengo L'attrezzatura Vediamo poi tra un attimo Se per caso fosse necessario Ah però scusa Ti ho dato l'archibugio Ti do l'archibugio Scusa Gittata corta L'arco invece ha Gittata lunga Ok Quindi ci siamo Dobbiamo partire Per il prossimo giorno E facciamo ancora Questo giorno Diciamo E quando arriviamo A Santiago Dello Scavaleros Interromperei il video Uh ecco ci siamo quasi Facciamo che Entriamo in città Ah e poi mantieni I punti in movimento Ottimo Cioè ottimo Buona Buona Spersi Mercato di Santiago Il mercato Il mercato Il mercato di Santiago Dello Scavaleros È decisamente più piccolo Rispetto a quello di Santo Domingo Ok vabbè Frutta fresca Frutta fresca Altaggi succulenti Appena raccolti Dalle piantagioni occidentali In vendita a prezzi Incredibili Nennoli rari Delle tribù della giungla Acquistati appositamente Per essere esportati In Spagna Affrettatevi Prima che il carico parta Potreste essere La prima a indossare La raffinata pelliccia Di questi rari Animali selvaggi Prima che le stofisticate Non il buildon Nella corte del re Ci mettano le mani sopra Come vi chiamate? Ah Nobile signora Come signora È sempre un piacere Vedere un illustre Cavallero Calcare l'umile Salciato Del nostro mercato Il mio nome È Diniz Tavares Come posso aiutarvi In questa bella giornata? Che cosa vendete Signor Tavares? Qualunque cosa Desideriate Io ce l'ho E se non dovesse Averla adesso Posso procurarmela In un secondo momento Razioni per i vostri viaggi Equipaggiamento Per la vostra campagna O tesori preziosi Provenienti da tutta l'isola Mi spiace solo di Non avere molti rimedi medicinali Questo tipo di risorse Sono difficili da trovare Nella mia regione Ho portato un carico di Bibbia Da Santo Domingo Da parte di Frate Caro Ah sì Bene Sono contento che il Pio Frate Sia riuscito a trovare Qualcuno di buona volontà E disposto ad occuparsi Di questo al posto suo E se non mi sbaglio Vi ho promesso un pagamento Sì? 1500 preziosi? Non mi ha detto niente Non mi è stato detto nulla Riguardo a ciò Ma sarò grato Di accettare il pagamento Ad ogni modo Sono io a essere grato Il pagamento verrà consegnato Presso la vostra carovana Immediatamente È stato un piacere Far affari con voi Mi Mi cosa? Commercio Vediamo se c'è qualcosa Da commerciare Eeeh Non vogliono tesori Eeeh Costo 10 razioni Ah Vendono in razioni Come costo? Ah Lui non ne ha O lui ne ha Sì no Lui ne ha E posso comprarne Fino a 2500 Infatti Ok Lui ne ha 2005 E non 2003 Ok Ottimo E non ne compra Ovviamente No Non compro un Kaiser Di niente In realtà Posso comprare Dell'equipaggiamento Ok Quindi le razioni Sono l'unità Di 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 Misura Insomma Con cui Vende la roba A 10 Mi costano 188 razioni Porca miseria È perché Due sono Normali E poi Scarsa Eeeh Ok Quindi ci può Convenire avere Un pochettino Di razioni In più Detto questo Direi che per oggi Può essere tutto Facciamo un salvataggio Ah bello che faccia L'autosave Buono Però no Facciamo un Secondo salvataggio Marzett S2 No Facciamo Marzett S1 Così per essere sicuri Che non ci siano bug O strane robe Abbiamo sempre un backup E detto questo Io vi invito a lasciare un mi piace Come dicevo prima A commentare qui sotto E iscrivervi se per caso Non l'avete già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti E buona giornata Ciao a tutti